Le strisce blu nel comune di Castellabate da oggi 29 maggio tornano a pagamento, come stabilito dal piano parcheggi redatto dal comando della Polizia Municipale, partenza dall'ultimo weekend di maggio e in vista del ponte del 2 giugno per regolamentare la viabilità di un previsto maggior flusso veicolare. La società in house Castellabate Servizi SRL, che gestisce il servizio, provvederà presso i propri uffici di Via Roma e Santa Maria al rilascio degli abbonamenti per i parcheggi, nello specifico le aree interessate dall'entrata in vigore della sosta a pagamento fino al 30 settembre, salvo le aree debitamente segnalate, che lo sono per tutto l'anno, come Piazza Izzo e Villa Matarazzo, saranno nella frazione di Santa Maria, in lungomare De Simone, in lungomare Pepi, in via Naso, in via dei Cantieri Navali, lungomare Bracale, nella frazione San Marco, via Porto, in via Cilento, in zona Pozzillo, piazza Luna Rossa, nella frazione Lago, piazza Belvedere dei Trezzeni e piazza Campo dei Rocchi, in piazza Madre Teresa di Calcutta e le aree di sosta lungo la Pineta e piazza Papa Giovanni Paolo II della frazione Oiastro Marina. I costi del ticket orario, pagabile anche con l'app Easy Park, rimangono invariati rispetto all'anno precedente, così come il pagamento minimo della prima ora di sosta e le tariffe per gli abbonamenti. Il controllo è affidato agli ausiliari della Castellabate Servizi e agli agenti della Polizia Municipale. Sono state anche conformate le zone in cui è possibile sostare acquistando un abbonamento da giugno a settembre, confermata anche per il 2020 la possibilità per i diversamente abili possessori di contrassegno H di sostare gratuitamente nelle strisce blu per i primi 60 minuti. L'orario di arrivo è da segnalare con disco orario, mentre dall'inizio della seconda ora di sosta resta obbligatorio il pagamento. Il sindaco costabile Spinelli dichiara in merito, dopo la sospensione del pagamento predisposto durante il periodo di emergenza, ripristinare le aree di sosta a pagamento qui a Castellabate diventa indispensabile per gestire nell'ordine il traffico veicolare che si fa più intenso nel fine settimana, soprattutto con l'avvicinarsi dell'estate e vista la possibilità degli spostamenti tra comuni passato il lockdown. Dello stesso avviso anche il consigliere delegato alla viabilità, Salvatore Marinelli, che aggiunge un plauso al lavoro del comando della Polizia Municipale che soprattutto negli ultimi mesi si è distinto per l'impegno profuso con le massicce operazioni di controllo legate all'emergenza sanitaria.